Quindi abbiamo il turno del nostro automa, allora, due carte, prima e seconda, allora, come al solito l'automa viaggia in uno dei quattro tracciati e parte dalla scienza, quindi l'automa fa la prima azione, entra anche lui nel tracciato scienza, questo dadino indica, vedete che c'è un dado, io dovrò tirare questo dado e questo dado mi dirà quale tracciato avanzerà senza prenderne il beneficio, quindi lui avanza ovviamente nel tracciato tecnologie, non avrebbe preso comunque benefici che sbloccano in questo caso uno dei tre tipi diversi di costruzioni, avanzato sulla tecnologia, mentre l'ombra avanza nel tracciato preferito, e sappiamo che il tracciato preferito dell'ombra è la scienza, quindi avanza in questo tracciato. Ha concluso l'azione il mio nemico e adesso tocca a me, allora, a questo punto io devo cominciare a sbloccare qualche quartiere qua, perché non soltanto devo prendere risorse in maniera facile, perché più avanzo più risorse verranno richieste. Allora, scelta, uso una stellina e un denaro, avanzo sempre in questo tracciato che è il tracciato che mi libera i miei potenziamenti più grandi, in questo caso potrei liberare questo potenziamento e mi dare una risorsa cibo se conquistassi, ma preferisco togliere una armeria, vedete che posso scegliere, anzi no, posso fare entrambe le, non c'è la sbarra, ah bene, aspettate che guardo bene la documentazione, ah no, infatti, quando c'è la sbarra, noi siamo qui, eccolo qua, conquista un territorio e ottieni una armeria, ottimo! Quindi, conquista, sappiamo sempre come funziona, quindi facciamo un lavoro per volta, la conquista funziona che metto uno dei miei avamposti, e a questo punto lo posso mettere qui, che è anche difficile da conquistare, quindi libererò una risorsa, tiro i ladi, eccoli qua, Allora, posso prendere il bonus del beneficio, questo no, oppure, in questo caso vedete, il bonus come prima dell'esagono, ma non ci sono benefici, fosse stata una tessera avrei preso quel beneficio, ma guadagno tanti punti, eccoli qua, quanti sono gli esagoni che controllo con i miei avamposti, quindi sono 1, 2, 3, 4, quindi 1, 2, 3, 4, Non fatevi confondere dal fatto che lui ha 6, io sono 31, lui arriva pian pianino, ma quando arriva è inesorabile. Ok, ho fatto la conquista, piazzo anche una mia armeria, e ovviamente la piazzo nel quartiere qui, vedete che c'è questo buchino che completa il mio quartiere, e quindi piazzo la mia armeria qui, ed è il primo edificio che faccio in montagna, essendo militante più che armeria non posso fare, sembra quasi logico, e quindi avendo completato un quartiere guadagno una risorsa a scelta, e ovviamente cosa vuoi che guadagno se non militare. Ok, quindi ho preso una stellina. Allora, ho finito le mie azioni, tocca il mio avversario, prima carta, seconda carta, allora, come al solito, lui avanza, vedete, in un qualsiasi dei 4 tracciati, e casualmente, vabbè, ha 2 risultati su 5, quindi avanza di nuovo qui. In questo caso non prende nessun beneficio, perché in questo caso mi dà punti per ogni armeria che c'è, e sblocca un mercato, ma il mio nemico, l'automa, non ha questa abilità, quindi tocca invece all'ombra, e l'ombra avanza nel più vicino, verso un monumento, o verso la fine, che ovviamente credo che lui, come grigio, sia o qui, o anche qui. No, il monumento che sblocca è questo, perché questo io l'ho già sbloccato, quindi lui avanza in questo tracciato, che è anche il suo preferito. Va bene. Fatto le sue azioni, vedete che comincia a correre abbastanza veloce, eh, questo gioco. Tocca a me. Allora, io posso andare ancora avanti qui, avendo 4 risorse, e questo potrebbe essere un... Faccio un'altra conquista e pesco una carta tapestria, e non è male. E avanzo nella mia corsa militare, per guadagnare punti alla fine. Potrebbe essere una buona scelta. Sì, io vado avanti ancora. Spendo un'altra stellina e un lavoratore, e faccio un'altra conquista, visto che posso conquistare, metto questa, che mi sblocca 4 punti vittorie. Quindi, sono 6 punti vittorie alla fine di ogni turno. Quindi ho conquistato, prendo il territorio, tiro i dadi, di nuovo, stessa scelta di prima, porca miseria, quindi 1, 2, 3, 4, 5, stavolta guadagno 5 punti, e sono a 36. Non mi soddisfa questa cosa, avrei preferito una risorsa, eh. Ho bisogno di risorse. Pesco una carta tapestry, eccola qui, ed è trappola. Ah, ok. Questa carta vale nelle conquiste. Vi spiegherò poi pian pianino cosa vuol dire. Quando il nemico, se mai arriverà, ma mi sembra abbastanza distante, non ho ancora scelto conquista il mio nemico, mi verrà a conquistare, io con questa trappola eviterò la conquista, e bloccherò il mio nemico con la carta trappola. Oppure posso giocarla come carta tapestry e giocare qua 10 punti, per guadagnare 10 punti. Poi posso spedere una risorsa per liberare un'altra armeria, che non è male. Quindi a questo punto forse mi conviene concentrarmi su questa cosa delle armerie. A questo punto uso un'altra risorsa, eccola qui, e libero, vedete questo bonus, libero un'altra armeria. Armeria che vado a piazzare, vediamo un po' se riesco a concludere, la piazzo qui, così almeno, se riesco a piazzarla poi un qualcosa qui, guadagnerò almeno punti per una riga. Vedete che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi manca una per chiudere una riga e guadagnare punti successivamente. Quindi ho fatto questo, ho fatto questo, e ho fatto questo, e ho finito il mio turno. Tocca al nemico che è già al penultimo dei suoi turni, ma sono anch'io il penultimo dei miei turni. 1, 2, allora, di nuovo, lui avanza sul suo tracciato, vedete, in qualsiasi tracciato, ma c'è il cuoricino, quindi avanza nel preferito e prende, sblocca quindi la seconda costruzione tecnologica che è l'industria della gomma perché ha sbloccato la gomma, eccola qui, l'industria della gomma, mannaggia lui e se la mette nel suo inventario dei monumenti. Il mio nemico invece va verso il monumento più vicino o il tracciato dove c'è il monumento fine più vicino e si sa già qual è ed è quello della scienza, quindi guadagna anche lui la prima spezzieria, eccola qui, che bellina, e la va a mettere qui e tutti questi sono punti, almeno tre per botta come minimo. Ok, fatto lui, fatto io, adesso tocca a me. Allora, io potrei fare, forse, potrei decidere di fare il mio turno delle entrate, io ho solo più una risorsa, potrei fare il mio turno delle entrate adesso anticipando lui, vedete che lui ha soltanto due carte, io faccio già il mio turno delle entrate e questo mi dà la possibilità di ricevere due risorse gratuite, così ne guadagno uno, due, tre, quattro, sei, sette, otto, che ho, nove, dieci. non sarebbe male avere dieci e rischiare di giocarmela così e poi giocare tirannia, sì, poi giocare tirannia, così se pesco una carta ce la gioco sopra, realizzando un po' di punti. Anticipo la fase delle entrate, parto prima io con le entrate, non ho idea di quello che lui farà con queste due carte, ma parto io con le entrate per primo, quindi faccio già l'azione delle entrate quindi la mia azione delle entrate segue queste quattro è la numero tre vedete allora la numero tre prendo le risorse che e i punti che è la mia abilità di militanti quindi mi da due due più quattro sono sei punti vado a 42 poi prendo due risorse una un cibo e una borsa di danaro e ho fatto l'azione questa poi gioco una carta tapestry a questo punto mi gioco la carta era sperando di pescare una carta tapestry e di giocarci sopra perché io sono un tiranno e posso fare quello che vuole quindi copro il terzo turno poi salgo della mia unica dovrei prendere anche una carta tecnologia perché questa è l'unica tecnologia che mi è rimasta più di questa non può avanzare ci vuole un tracciato almeno nella seconda era e io ci sono di un personaggio di un giocatore nella seconda era e io ci sono per poter attivare questo quadrato quindi vuol dire questo punti vittoria per ogni step nel tracciato del militare quindi uno due tre quattro cinque sei quindi prendo altri sei punti uno due tre quattro cinque sei non guadagno punti da qui ma devo dire che guadagnare dodici punti dalle mie dalle mie carte non è male ripeto 48 a 6 non conta niente perché adesso poi arriverà pian pianino in più faccio la terza ho fatto l'avanzamento di tecnologia ora guadagno punti vittoria e i punti vittoria che io guadagno sono quelli carte tecnologia nella mia capitale una è un punto vittoria righe e colonne guadagnate praticamente zero quindi non ho righe non ho righe non ho colonne nella mia capitale perché non sto sbloccando edifici e questo a lungo andare ovviamente porta conseguenze poi qui non c'è niente qui invece mi dice vedete che ho sbloccato lo sport di squadra che mi dà punti vittoria per ogni territorio che io ho ovviamente questa è la cosa militare quindi uno due tre quattro cinque sono altri cinque punti vittoria vado a 54 dopodiché faccio tutta la fase delle entrate eccola qua la fase delle entrate mi dice che guadagno un altro di questi un lavoratore un funghetto e due stelline due stelline che sono fondamentali per poter avanzare qui per poter avanzare qui ho finito tutta la mia fase dei turni sono 54 a 6 ma adesso arriva anche lui eh state tranquilli che adesso arrivano le randellate ok allora prima carta ops questa devo girarla seconda carta è questa non c'è la manina mannaggia quindi lui fa l'azione nel turno successivo guadagnerà punti e questo è peggio per me perché lui avrebbe perso un'azione avesse avuto questa questa mano cioè la fase delle entrate prima della fase del movimento ma non è così e lui avanza verso il movimento più verso il monumento più vicino e o la fine più vicina e ovviamente per lui siamo sempre lì è sempre questo quindi avanza di uno non prende nessun beneficio stessa cosa fa lui avanza di uno quindi si loro arriveranno probabilmente lui sicuro lui ci arriverà pian pianino guadagnerà punti ha finito il suo turno non fa la fase delle entrate ma aspetta che io faccio il mio primo turno speravo veramente lui facesse la fase delle entrate adesso invece no io ho perso ho perso di fatto lui ha fatto un'azione in più quindi allora io posso andare a sbloccare il mio la mia seconda la mia seconda carta lì ma voglio insomma cercare di fare qualcos'altro sbloccare un pochino di altre cose perché forse è meglio che avanzo un po' su questo tracciato per prendere sicuramente una di queste di queste tessere sì per guadagnare un po' di punti sì allora avanzo nella tecnologia e utilizzo la sua risorsa avanzo nella tecnologia prendo una tecnologia e prendo la borsa che mi dà 5 punti quando la attiverò la prima volta e prendo l'edificio banca e ho finito la mia azione non posso fare nient'altro poi proverò ad avanzare ancora qui per prendere una carta tapestry che se è buona me la metto sopra la tirannia e per pescare come bonus sbloccare la banca perché devo arrivare per poter mettere giù la mia banca devo arrivare almeno qua vedete banca quindi devo prendere un po' di tecnologia adesso qua sono abbastanza tranquillo adesso sono in pace ho scoperto la fungiatura tubature mi dà una risorsa militare e mi dà un'altra armeria nel secondo bonus va bene poi vediamo un po' tocca lui a questo punto non ha più carte da giocare quindi è obbligato a fare la fase sua che gli piace un sacco allora solita domanda se avanti con i due tracciati e ovviamente avanti questo e avanti questo quindi questo non si tocca la sua carta lui è a livello 3 a questo momento quindi fa questa azione qui dal secondo al quinto turno l'automa realizza un punto extra per ciascun monumento in suo possesso ne ha 3 e quindi comincia ad avanzare di 3 poi guadagna punti allora monumenti per 2 3 per 2 sono 6 quindi 9 6 va a 15 adesso vedete come corre poi territorio conquista fortunatamente solo 1 quindi prende 2 punti non sta andando avanti per niente nel militare poi tracciato della guerra 0 per 1 0 tracciato della scienza 1 quindi 1 per 1 uguale 1 sta prendendo veramente pochi punti poi tracciato della tecnologia eh vabbè questo si sa già 1 2 3 4 5 6 7 8 punti quindi da 18 va a 26 poi tracciato dell'esplorazione lui è ancora fermo al palo quindi 0 per 1 uguale 0 non prende i punti perché ho fatto prima io l'azione vedete che ho chiuso quindi ha finito i suoi punti e sono solo 26 questo mi dà speranze aggiunge 2 carte quindi le prime 2 carte del mazzo di riserva e delle azioni e lo mette insieme al suo mazzo e comincia già a mescolarlo perché poi coprirà con la prima carta tapestry che porta via me questo e il moltiplicatore quindi sarà per 2 pesca un'ulteriore carta tapestry e se la mette qui nella sua riserva nel frattempo faccio l'azione di mescolare le sue carte di riserva e poi lui partirà con il suo turno mentre io adesso devo decidere dove andare e io vado in falegnameria avanzo nella tecnologia per forza allora avanzo qui nella tecnologia quindi uso una risorsa e uso il soldo prendo una carta tapestry ed è lo sfruttamento in questa era quando posizioni una tessera esplorazione sul tabellone puoi ottenere il doppio dei benefici sulla tessera se lo fai non realizzi punti vittoria in caso mi diese punti vittoria e posso ottenere un doppio beneficio posso giocarlo sopra guadagno 5 punti e si me lo metto qui sicuramente guadagno 5 punti e vado 59 e vedo se posizionare una tessera in più come dice la carta posso costruire un mio mercato spendendo una risorsa cosa che faccio e spendo la sua risorsa e il mercato io me lo metto qui così mi ha riempito la prima riga spero di non averlo incasinato troppo anche perché poi libero comunque la caserma sto facendo due calcoli forse se la metto qui no guardate la metto qui guadagno una risorsa in caso perché poi libererò uno spazio se avanzo qui libererò una caserma che tiene 9 no scusate non è una caserma è una fabbrica di armi e quindi metterò qui riempirà lì si può essere va bene me la gioco così quindi ho usato la risorsa per fare questo e ho finito per fare questo e ho finito tutte le mie azioni qui poi guadagnerò posso decidere cosa fare va bene tocca all'avversario che parte che parte con la prima azione quindi uno due allora qualsiasi tracciato in questo caso l'esplorazione oh parte anche lui con l'esplorazione quindi vi posso far vedere cosa fa quando lui esplora eccolo qua queste sono le azioni no è l'azione di conquista non è l'azione di esplorazione allora quando c'è l'azione di esplorazione lui prende una delle tessere casuali la mette in un qualsiasi territorio disponibile se avesse la preferenza militare metterebbe il tracciato esplorazione più vicino a come tracciato preferito invece lui a tecnologia avesse avuto il militare metterebbe la sua tessera esplorazione nel tracciato più vicino a me per conquistarmi quando non ha la preferenza nel tracciato militare lui mette la tessera se possibile più vicino alla conquista dell'isola centrale quindi lui in questo caso può piazzare la tessera qui quindi lui e questo lo dice quando c'è questa azione ah no in realtà lui ha avanzato qui e non prende no 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 quando fa questa azione meno male ho guardato vedete che c'è questo però non sono grigie come questo quando sono verdi quindi lui avanza su quello non prende nessuna tessera ma l'avevo già spiegato quello che succede benissimo meglio ancora è qui che fa colazione non qui ok ottimo quindi lui ha avanzato nell'esplorazione l'ombra va avanti nel suo preferito che è questo e me lo dice il cuoricino eccolo qua ok ha fatto fuori tocca a me allora a questo punto io potrei andare avanti con la mia conquista nell'ultimo territorio o vado avanti nell'esplorazione così guadagno anche una risorsa e se metto giù questa guadagno uno due tre punti o anche questo tre punti no questo non lo guadagno tre punti allora potrei andare avanti qui metto giù questo e c'è scritto che quando posizioni sul tabellone posso ottenere il doppio dei benefici sulla tessera quindi prendo questo e ottengo il doppio dei benefici quindi prendo uno due quindi prendo due risorse ho esplorato vedete che ho messo giù tessera qui aspettate mi sono perso sì 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 ok ho pagato ma ho pagato la risorsa non mi ricordo più lui ha fatto la sua esplorazione e toccava a me io devo mettere giù la tessera no devo pagare infatti devo pagare quindi pago una risorsa che è una di quelle che ho già messo giù va bene quindi questa non la potevo pagare devo pagare il fungo e questa rimane a due non potevo pagare abitanti perché non l'avevo ancora messo giù e dovevo pagare una tessera potevo anche liberare una di queste che mi dà un cibo ma va bene così così ho preso doppio beneficio e guadagno punti anzi no dovevo metterla giù qua la volevo mettere giù eccolo qua perché montagna montagna è un punto acqua acqua un punto acqua un altro punto sono tre punti 59 62 bene mi piace ho finito il mio turno tocca a nemico quindi lui avanzerà verso il più vicino alla conquista non completato più vicino alla fine è ovviamente questo lui avanzi in uno dei qualsiasi in questo caso è l'esplorazione quindi lui è qui va bene non male non male posso prendere il faro qua e forse forse ci sto pensando guadagno la tessera e faccio un'altra esplorazione e quando posizioni una tessera sul tabellone puoi ottenere il doppio dei benefici sulla tessera per adesso mi sta venendo un dubbio se lo fai non realizzi punti forse sta parlando di questi punti e caspita no io non so se ci sono tessere che danno punti vittoria ma non credo perché realizzo il doppio dei benefici no allora non lo faccio mi dispiace ti tengo solo uno ma secondo me questa tessera sta dicendo che non realizzi punti di questi e in realtà io posso guadagnarne due più forse uno guadagno tre e qua guadagno invece due risorse forse mi capita mi conviene mi conviene forse perché si mi conviene mi conviene non prenderò punti da qui ma ne perdo anche sei da qua questo è un problema se ne perdo sei da lì perché adesso vado a conquistare un altro e libero un altro punto di vittoria quindi sarebbero sette e tre dieci per due risorse no niente torniamo indietro non prendo doppia risorsa quindi quindi allora quello che faccio adesso che ho sono arrivato qui conquisto quindi ho bisogno e qua mi costa un sacco ho bisogno una stellina e due risorse eccole qua però avanzo e purtroppo non vado a inconquistare quindi non posso fare l'azione bonus sotto ma prendo la mia caserma la mia caserma che piazzo qua eccola qui che bella e mi ha riempito un altro quadrato quindi in questo caso prendo un'altra risorsa non è male e prendo il cibo prendo un'altra risorsa perché voglio avanzare qui e ho bisogno di un cibo e uno qualsiasi quindi posso tornare indietro ho piazzato il militare ma faccio anche la conquista quindi quando faccio la conquista libero un ulteriore avamposto ne la metto qua sopra in caso venga vedete che se viene il dado con il punto di domanda posso reclamare il beneficio visto che mi è già uscito due volte e mi è uscito una terza volta ma sette punti sette punti non sono pochi sette punti sono veramente tanti non li prendo uno due tre quattro cinque sei sette punti ok ho finito tocca l'automa uno due ok allora devo girarla così allora l'automa verso il monumento più vicino eccolo qui quindi prende i computer chiude l'ultima era della tecnologia si prende il suo computerino stessa cosa lui verso la meta più vicina e ovviamente questa e sblocca pure nella scienza l'accademia eccola qua che carina l'accademia mannaggia e comincia adesso è giusto ci sta ci sta anche lui comincia ad avanzare poi scarto le sue carte e tu com'è che ho quasi finito il turno da questo punto allora io avanzo posso avanzare qui per prendere il faro perché mi schiede un fungo è una cosa se avanzo lì prendo il faro che non saprei in realtà dove metterlo per aiutarmi forse allora è meglio che avanzo qua prendo un'altra tecnologia ho libero questo per andare a sbloccare la banca se faccio questo allora avanzo qui usando a questo punto la stella avanzo qui e prendo la ah no questo utilizzo e sblocco il mercato e questo lo metto questo punto sì qua perché mi darà punti per questa riga ops ho buttato giù la mia forge mi darà la riga per prendere punti almeno uno me lo dà quindi ho fatto l'azione non c'è bonus questo però mi dà due punti per ogni carta vedi ho raddoppiato il bonus di punteggi meno male che non ho usato la mia la mia abilità carta poi ho finito di nuovo tocca all'ombra lui avanza su un qualsiasi tracciato e avanza nel militare eccolo qua quindi lui avanza nel militare qualsiasi tracciato militare e fa un'azione di conquista stessa identica situazione qua invece c'è su come funzionano le conquiste vedete qua c'è la carta che dice come funzionano le conquiste gli esagoni validi possono essere conquistati e esplorati sì questo può essere conquistato e esplorato è adiacente a te solo se c'è il simbolo qui sì il più adiacente a me solo se c'è il simbolo lì quindi lui va a esplorare e conquistare funziona così la conquista lui entra dentro qualsiasi tessera a caso non guadagna punti vittori nel piazzamento della tessera ma va immediatamente con il suo avamposto a conquistare il territorio e se c'è questo simbolo vuol dire che lui fa già un'azione di dominio ora la conquista vuol dire entrare in un territorio dominare vuol dire che in massimo in un territorio ci possono essere due avamposti se lui entra con entrasse e entrerà prima o poi in uno dei miei avamposti lui potrà fare un'azione di conquista conquistare vuol dire che quando entrerà qui metterà il suo il suo token il suo avamposto e girerà in basso il mio in questo caso io sono il perdente lui è il dominante quindi su questo territorio nessun altro potrà entrare per conquistare insomma sarà il dominio per sempre in questo caso lui è entrato in questo territorio perché è indicazione verso l'isola centrale più visto che ci sono ancora punti da guadagnare nell'isola centrale questo token indica che in questo caso lui non può buttare giù ma buttare giù un avamposto ipotetico è come se qua ci fosse stato l'impero ombra questo è un territorio ad esempio dell'impero ombra lui è entrato e ha già buttato l'avamposto ora questo io non posso più entrare per conquistare lui tra l'altro ha già fatto una delle due azioni perché uno dei due bonus è far cadere due avamposti avversari lui ne ha già fatto cadere uno anche se nella sua azione e qui non c'era nessuno di fatto ma questa è la sua forza quando gira una carta con questo segno quindi lui prende uno dei suoi quadrattini blu lo mette qua e indica che ha già ottenuto uno dei due bonus quando riuscirà a farlo uno dei due delle azioni necessarie quando farà le due azioni guadagnerà 10 punti e suppongo che prima della fine lo farà invece l'ombra avanza verso la fine più vicina e ovviamente siamo sempre lì il preferito quindi tra un po' comincerà a fare punti su punti io ho ancora un'azione che posso spendere ma lo posso fare solo in un territorio dove posso muovere di uno non è qui non è qui non è lì e non è lì quindi posso andare avanti nella scienza posso andare avanti nella scienza tiro e avanzo di uno sarebbe male ok allora avanzo qua spendo l'ultima risorsa ecco qua e tiro un dado avanzerò del tracciato dove c'è il dado ma non prendo vedete che è la x non prendo il bonus quindi avanzo nell'esplorazione ed era esattamente quello che volevo perché non prendo il bonus ma prendo il faro eccolo qua perché sono il primo a entrare in questo tracciato prendo il faro e devo metterlo in un posto dove può essere interessante ecco non è che non mi piace tanto le montagne perché sono tutte ingarbugliate è molto più facile la foresta o le pianure perché sono tutti ingarbugliati io questo da due non saprei dove metterlo bene perché non posso coprire gli spazi rossi posso però uscire dal territorio però perché dovrei uscire io lo metto qua ecco metto qua però questo vuol dire che dovrò sbloccare le tre per mettere lì oh che brutta scelta qui no qui no qui ma rimangono due buchi qui non posso metterlo qui non posso metterlo qui ma rimangono un sacco di buchi in giro qui dovessi riuscire a prendere un altro tracciato militare non sarebbe male è un problema brutto 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 eh sì devo metterlo qua per forza sì qua per forza sperando di sbloccare altre cose ok prendo il faro perché sono avanzato questo è vero che mi dice che non prendo il beneficio ma il beneficio è la parte superiore ma i monumenti li prendi in qualsiasi caso anche se è un'azione passiva ok ho finito non ho più azioni quindi dovrò fare un'azione di entrate questo mi andrà bene perché mi darà tre risorse ma il nemico ha ancora un sacco di azioni che può fare allora lui avanza secondo il tracciato preferito e guarda caso il tracciato preferito è questo quindi mentre lui avanza verso il monumento o verso la fine più vicina e vuole che non sia questo e avanza qui tra l'altro era pure scienza quindi ha fatto la sua azione e sbloccherà altri monumenti poi tocca a me devo fare la fase delle entrate non ho più altre altre opzioni no prossima volta devo andare qua a conquistare perché voglio sbloccare questi anche se va bene allora non ho carte tapestry ok facciamo la mia azione delle entrate una cosa per volta prima cosa queste entrate sono 4 2 6 1 7 punti quindi da 69 vado a 76 guadagno un soldo e un fungo o un cibo poi andiamo avanti con le mie cose piazza una carta tapestry allora questa carta potrei tenerla alla mia trappola e mi dice devo scegliere adesso qui mi dice puoi scartare questa carta dalla tua mano quando un avversario prova a conquistare il tuo territorio se lo fai ottieni una risorsa e fai cadere il suo avamposto quindi lui non otterrà questo bonus perché lui non riuscirà ad abbattermi ma io riuscirò ad abbatterlo e metterò uno qui il problema però in questo caso è e guadagnerà una risorsa ma io non ho carte tapestry da giocare in questa era e se però la gioco come una tapestry realizzo subito dieci punti quindi lui ne può guadagnare dieci e io posso cercare di bloccarlo no guadagno dieci punti guadagno dieci punti in più sono il primo e guadagno tre risorse e so già dove andrà uno due tre tre risorse guadagno dieci punti e andiamo a 86 meglio l'uovo oggi che la gallina domani quindi ho giocato la carta tapestry avanzo di un livello quindi porto su la mia tecnologia di borsa borsa valori e guadagno cinque punti andiamo a 91 poi ho finito l'azione e guadagno i punti questi li ho già presi guadagno due punti per ogni carta tapestry sono quattro quindi uno due tre quattro vado a 95 poi guadagno un punto per ogni riga o colonna che ho riempito e l'unica che ho riempito è questa ed è un punto e vado a 96 poi guadagno un punto per ogni territorio che controllo uno due tre quattro cinque sei quindi andiamo 97 98 99 100 lasciamo qui il cubatto che riguarda i 100 e vado al 2 siamo 102 a 26 ma lui adesso fa due turni di guadagno io ne ho ancora uno ho finito la fase dei punteggi ora la fase delle entrate queste le ho già messe guadagno due risorse e soldi una due un lavoratore un funghetto e due militari questi mi serviranno perché voglio provare ad arrivare almeno qua per guadagnare dei punti essere il primo che finisce il tracciato dubito penso che sarà lui il primo a finire il tracciato ma almeno conquistare quest'ultimo costruzione e guadagnare punti qui punti carlo a tapestry non mi interessa ma qua guadagno punti per l'esplorazione e qui guadagno un sacco di punti perché mi guadagno tutte queste e devo farle devo arrivare qua in fondo quindi mi concentro là assolutamente senza ombra di dubbio ho finito tutta la mia fase delle entrate io ho l'ultimo turno da giocare queste sono le risorse per l'ultimo turno e le concentrerò mi servono due quattro sei sette stelle ne ho cinque non ce la faccio non ce la faccio non ce la farò eh no un accidente non ce la faccio e allora forse è meglio andare a cercare questo a questo punto perché qua mi dà punti vittorie per i territori che conquisto quindi magari riesco a conquistare uno prendo una carta no carta tapestry non mi interessa però non ho contato due quattro sei sette otto stelle vedete che sono gli avanzamenti otto stelle e due risorse normali io ne ho cinque tre otto due dieci ne ho undici risorse quindi avrei le due risorse normali qua due qui e due qui sono quattro ho bisogno di otto stelle ne ho cinque quindi niente non potrò concludere la mia corsa va bene va bene va bene così ho finito la mia fase tocca al nemico e anche lui finisce il suo turno ah meno male non fa il suo turno di azione e il suo turno sarebbe stato di andare verso qui e avrebbe guadagnato dieci punti ma ha la fase di entrate anche lui quindi la sua penultima fase di entrate guadagnerà i punti quindi va a 74 ok lui ha finito non guadagno ovviamente questo perché l'ho già guadagnato io l'ho già coperto io sono le tre risorse che ho preso quindi a questo punto prende le ultime due carte dal mazzo infatti vedete che è l'azione due tre e quattro e questa è l'azione quattro quindi prende due carte lì va avanti prendendo una carta tapestry e coprendo questa quindi l'ultimo suo valore sarà per tre per due per tre mescola il mazzo e comincia anche lui l'ultimo turno come me quindi non c'è più vantaggio a finire per primo o partire per primo c'è solo vantaggio per me a liberare questi che sono se riesco a fare due conquiste sarebbero tre punti in più a fine partita perché le risorse non mi servono più ormai tanto è vero che se voi leggete qui la carta tapestry la posso mettere qui la carta entrate chiude con il quarto cioè sono le ultime entrate che io faccio a meno che non becco entrate esplorando eh questa è un'altra è un'altra opzione cosa che devo fare assolutamente cosa che devo fare assolutamente anche se posso avanzare di due allora allora la banca farò il mio ultimo giro qui al quinto quindi la banca potrò metterla giù questa non mi darà tanti punti semplicemente riempio riempio spazi riempio spazi allora a quel punto forse mi conviene prendere una carta tecnologia che farò avanzare qui prendendo tre punti per prendere una carta tecnologia devo avanzare qua e devo spendere un soldo allora conquistare devo conquistare sicuramente riesco a fare due conquiste parlo da solo ma perché uno la guadagno da qua se avanzo e l'ultimo conquista ce l'ho qua no non riesco a fare non riesco a liberare due avamposti per arrivare a tre punti vittoria quindi non ha senso anche perché una due tre quattro stelle potrei guadagnare questo ma non mi darebbe non mi darebbe troppe troppe cose quindi mi devo concentrare su altro mi devo concentrare forse sulla tecnologia sì mi concentro sulla tecnologia allora avanzo con la tecnologia spendo uno di queste a questo punto spendo una stella militare prendo una carta tapestry a mia scelta posso anche cambiarle tutte e tre ma voglio prendere la biblioteca che mi dà punti poi a fine nel passaggio in crescendo per prendere tre punti vittoria che sembrano niente ma possono essere buoni questa scelta mi dice che posso decidere di sostituire le tre ma io non lo faccio e tengo la tesoreria e sarebbero quattro punti meglio ancora quindi ho fatto la mia azione ovviamente non prendo il monumento perché è stato già preso da lui e ho finito tocca al nemico che avanza nel militare lui e va bene perché prendono semplicemente una carta tapestry e se la mette qui poi lui invece viaggia nel preferito prende un altro monumento e lo mette qui ha preso la neuroscienza questo è il dipartimento di neuroscienza ma che bellino ok ha finito l'ombra sale nel preferito e siamo quasi arrivati alla fine del suo percorso quasi sempre loro arrivano prima di noi quindi tocca di nuovo me io avanzo l'ora qui spendo un altro soldo e a questo punto ho un lavoro anzi un'altra stellina che tanto non avanzerò più qui quindi un'altra stellina avanzo qui posso liberare una di queste tre strutture carte di credito linguaggio giochi da tavola di agricoltura niente mi da punti forse era questa se mi dava quattro punti comincio a liberare un villaggino e cerco di metterlo in un posto dove posso chiudere una colonna quasi e posso metterlo qui ok qui può chiudere poi se ne metto un altro qui va bene ho fatto ho finito posso spendere una risorsa e lo faccio per avanzare di uno delle mie ah aspetta di una delle mie posso avanzare con la borsa e salire e la borsa è questa e forse riesco a riesco a metterla per chiudere qui e chiudo una striscia si la metto qua la borsa quindi salgo con questo ok e prendo la borsa e ho speso la risorsa ho finito tocca il mio nemico lui avanza normalmente nel tracciato preferito e eccolo qua quindi completa un tracciato progresso qualsiasi perde il suo coso e guadagna 10 punti e va a 84 ok mentre lui avanza caspita qua e finisce anche lui il suo tracciato preferito e quindi prende il suo cubotto anzi no questo se lo devo lasciare qui perché indicherà poi il punteggio che prenderà prende il cubotto lui primo lui secondo quindi ha completato un tracciato qualsiasi per secondo prende 5 punti come dicevo i punti vanno all'automa e va a 89 84 89 ok ha finito tocca a me e allora inutile correre dietro i tracciati io vado avanti qui quindi prendo 1 e 1 avanzo allora guadagno tanti punti quanti sono le mie 1-2 punti poca roba ma insomma 1-2 poi posso mettere giù un'altra di queste strutture e lo faccio mettendola qui per completare un'ulteriore riga che mi darà punti alla fine posso prendere spendendo una risorsa una tessera acciaio scusate una tessera e lo faccio così prendo la tesoreria che mi darà 4 punti invece di 3 e mi darà punti in più perché moltiplico per 2 le carte da qua quindi ho fatto il bonus ho ancora 4 risorse ma ho finito la mia azione tocca a lui avanza allora nella esplorazione eccolo qui e allora a questo punto esplora uno dei tracciati non è militare quando lui non è militare quindi non prenderà i due tracciati più vicino a me ma prenderà i tracciati in assoluto più distanti da me 1-2-3 o qui è 1-2-3 distante da me o qui che è 3 distanti da me 1-2-3 lui può mettere qui qui e qui come faccio a saperlo? così vi posso spiegare anche l'ultimo pezzettino quando c'è parità di esplorazione tracciati conquiste eccetera eccetera bisogna guardare questo non questo questo perché è legato a questo vedete che c'è la freccia nera lui parte scendendo da qui la prima tessera secondo le colonne che troverà partendo da destra seguendo il flusso della freccia quindi lui partirà qui poi qui poi qui poi qui poi qui questa è 1-2-3 da me quindi non è possibile per lui perché non è adiacente al suo territorio quindi partirà da qui e la tessera più vicina partendo da qui è esattamente questa quindi prenderà una tessera a caso la girerà e se la metterà così questo è il significato di queste frecce così siamo riusciti a spiegare anche tutte le altre frecce ah scusate mentre invece il tracciato più vicino per il grigio a questo punto che non è più questo perché ormai l'ha già trovato per il monumento più vicino per lui questo non è e sarebbe questo gli altri sono già tutti conquistati quindi più vicino alla fine per il grigio è il militare ma lui non prende nessun bonus quindi ha finito anche lui il suo turno tocca a me ultimo e ultimi due turni allora vediamo un po' cosa posso fare se posso guadagnare qualcosa questo mi sembra un buon turno perché io avanzo di una e una questo punto ok mi da i punti per i territori che conquisto 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 punti e non è male vado a 110 poi posso sbloccare questo e lo faccio spendendo una risorsa sblocco questo è l'ultima azione che posso fare sblocco questo perché mi darà 4 punti alla fine della partita in più sbloccando questo forse ma forse riesco a chiudere un vedete chiudo un quartiere e mi da immediatamente una risorsa che io posso spendere per avanzare qua si ok quindi io uso questo e ho fatto quello che volevo fare questo poi lo userò per mettere questo che in realtà mi dà poca roba perché posso mettere giù pesco soltanto una tessera ma metto giù un altro dei miei villaggini che è vero che mi dà una risorsa ma soprattutto mi chiude un altro quartiere e mi fa un'altra riga quindi sono molto soddisfatto di questa azione tocca a lui allora 1 2 allora lui non può più avanzare sulla tecnologia avanza quindi nell'esplorazione e in questo caso fa esattamente la stessa identica cosa il più distante da me è 1 2 3 1 2 3 questo no quindi o questo questo oppure 1 2 3 questo riguardando il segno scendendo per così la prima tessera disponibile che lui ha più distante da me per esplorare no non può essere questa perché deve essere vicino quindi è questa perché deve essere vicino a un suo avamposto ok ho finito io ancora ah no ci vuole un fungo errore non posso fare quello che volevo perché ci vuole un fungo io non ce l'ho ai 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 aia ai ai e questo non è buono posso solo andare avanti qua a prendere due tecnologie ah scusate non so devo prendere questo eh sì posso andare avanti lì e basta no non posso neanche andare avanti qua perché ho bisogno un soldo e due risorse ma ne ho uno e una posso andare avanti solo nella scienza che non mi serve niente se non liberare un villaggino ma serve poco e niente no il meccanismo è sempre uguale va bene allora prendo uno di questi tanto cambia poco avanzo qua prendo una carta tapestry che è il capitalismo ma non mi serve poi uso l'abilità il bonus spendendo un'altra eh una no scusate io sono questo un'altra risorsa sblocco questa e posso fare la mia azione che dicevo prima guadagno quindi un'ulteriore risorsa che utilizzerò solo qua ma giusto per anzi forse sbloccherò un'altra di queste sì 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 perché vedete che qua posso avanzare di uno io ho ancora una risorsa avanzo di uno per liberare non prendo un tiro il dado perché tanto non mi dà benefici ma soprattutto prendo un altro villaggetto che mi moltiplica per due le righe che io faccio e non credo di riuscire a chiudere un altro quartiere no non chiudo nessun altro quartiere però sono contento ok tocca a lui quasi finito io quasi finito lui allora lui avanza nel tracciato scienza ecco qua prende lui una carta tapestry poi questo invece avanza nel tracciato preferito ma l'ha già chiuso quindi avanza nell'esplorazione poco cambia per me siamo solo a ricerca della fine dei turni ok tocca a me io ho l'ultima azione avanzo quindi qui non tiro il dado ma preferisco l'opzione di prendere un villaggio una struttura che metto qui giusto per completare una cosa estetica che mi piace questo però mi ha sbloccato questo che mi raddoppia i punti e quindi i raddoppi i punti delle colonne e delle righe sono 4 invece di prendere 4 ne prenderò 8 8 punti ed è questi 3 qui vedete che sono tutti completi e questa righetta qui tocca a lui io ho finito le mie azioni poi farò i conti finali lui avanza ovviamente tecnologia è piena prenderà la scienza e in questo caso lui si prende il bonus quindi tira e avanza in militare e questo non mi piace perché farà una conquista e la conquista più vicino parca di una miseria la fa proprio me quindi lui conquista il mio territorio e prende soprattutto ed essendo il secondo che entra nella area della conquista centrale prende 5 punti quindi va a 94 spero che non siano i 5 punti che mi devastano va bene lui ha fatto la sua azione lui avanza nell'esplorazione cambia poco e niente io ho finito le mie azioni faccio quindi i miei punti finali allora nei punti finali prendo tutti i turni entrati che fanno il 5 quindi non metto carte tapestry e non faccio entrate quindi queste sono le azioni che non farò al 5 ma faccio sicuramente l'azione è questa guadagno due risorse ma non mi serve praticamente niente in questo caso ma soprattutto guadagno 7 punti e quindi vado a 117 e ho finito poi avanzo di una carta che è la tesoreria mi da altri 4 punti 1 poi guadagno tutti i punti che sono nella fascia della mia plancia quindi guadagno 2 per ogni carta tecnologia sono 8 vado a 129 poi 2 per ogni riga e colonna ne ho 3 più una 4 per 2 sono altri 8 punti e vado a 137 8 punti si 137 poi guadagno 4 punti per aver sbloccato questo e vado a 141 troppo 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 poco perché io ho finito e ho guadagnato troppi pochi punti davvero troppi pochi punti 141 adesso lui arriva arriva come se non ci fossero domani allora vediamo innanzitutto se fa la fase dell'incoming si lui non fa il movimento o l'azione perché ha già la fase entrata e sono i punti finali per stabilire chi ha finito e chi ha vinto allora dal 2 al 5 un punto per ciascun monumento 1 2 3 4 5 sono sempre 6 non ha preso monumenti quindi sono 6 punti e quindi dal 94 va a 100 giusti giusti poi prende un altro cubetto e aggiunge monumenti per 3 18 conquiste 3 per 3 9 27 militare 1 2 3 per 2 6 quindi 33 ma guardate che siano questi 5 5 più 2 8 punti 7 punti adesso voglio sono proprio curioso di vedere militare l'ho fatto scienza 3 per 2 6 eh no no comunque stravinto 39 poi tecnologia 12 per 3 sono 36 mamma mia e va quindi eh quindi 35 175 che macello eh e esplorazione per 3 sono 3 per 3 9 175 più 9 184 ho finito non so se eh avrei potuto fare di più forse avrei potuto bloccare la sua conquista qui ecco forse quello che avrei potuto fare non prendere 10 punti per evitare lui di entrare e conquistare sarebbero stati forse una decina di punti e io eh non sarei potuto comunque andare a conquistare lui per guadagnarne 10 qui in ogni caso ah no io posso guadagnare ancora questo sport di squadra che non l'ho segnato comunque sono 1 2 3 4 5 5 punti quindi vado 146 eh forse una decina di punti in meno lui 174 una decina di punti in più sarebbero 156 174 no mi sembra impossibile riuscire a vincere questa questa partita sicuramente devo migliorare ma è veramente siamo a livello 2 immaginate a livello 6 in cui il nemico fa delle cose pazzesche pazzesche è molto molto difficile riuscire a vincere almeno per me non ho giocato non ho all'attivo tantissimissime partite ma in tutte quelle che questa è una di quelle in cui mi ci sono avvicinato di più eh 84 46 a 46 sono 35 punti che non sono pochi ma avrei potuto forse sbloccare questi tre punti in più eh ho giocato forse male per le risorse che mi sono trovato presto senza risorse andando vabbè però dovevo pure andare lì forse me lo sono giocata male qui per guadagnare altri punti però se vi è piaciuto il gioco mettete il video mettete un like spero che il gioco vi sia piaciuto e vi piaccia è bello anche ovviamente meglio secondo me rende il meglio anche in solitario ma anche ovviamente in multigiocatore perché lì non essendoci l'automa ma in due giocatori ad esempio la shadow empire l'impero ombra c'è comunque quindi è una sfida in più per tutti eh però in multigiocatore ovviamente eh non si fanno punteggi stratosferici è un po' più legato al all'avanzamento di certe cose spero che vi sia piaciuto il video grazie per avermi seguito fin qui se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale vi auguro una buona giornata a tutti ciao